Il mediatore creditizio è quella figura che ti fa scegliere la proposta più adatta alle tue esigenze. Il cliente, prima di un cliente, per me è una persona. Aiutiamo le famiglie a risparmiare. Affidarsi a un mediatore creditizio vuol dire affidarsi a un consulente di tua fiducia, che paghi realmente te e che deve lavorare per te. Siamo sempre stati consapevoli che il vero valore che dovevamo dare alla nostra società era la rete commerciale. Questa è un'azienda dove ci si confronta molto. I quattro soci, persone fisiche, sono anche sostanzialmente i manager della società. Mi sono sempre sentita, fin dall'inizio, in una famiglia. Questo è un lavoro in cui si impara sempre qualcosa di nuovo tutti i giorni. Qui credono nelle persone, se vedono la buona volontà ti danno l'opportunità di fare quello che vuoi. È un lavoro contemporaneo, attuale, un'opportunità unica per i giovani, che va incontro a quelle che sono le esigenze effettive della comunità e delle persone. Guarda, dovrei farti una critica perché bisogna centellinarle di più le innovazioni. E forse tutte insieme qua, è un casino, no? Guarda! Speratudo Guarda! Guarda! Grazie a tutti.